In 400 stipati al teatro della Compagnia di Firenze per discutere il futuro dei fondi per le politiche di coesione europee dopo l'annuncio della Commissione europea di volerli ridurre nel setennato 2021-2027. A rischio per la Toscana ci sono un miliardo e mezzo di minori entrate per imprese, agricoltura e ambiente su un bilancio totale dell'Unione di 1.135 miliardi. Sul palco il Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Karl Heinz Lambert, la Commissaria Europea per la Politica Regionale Corina Crezzo e il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Al 2020 bisogna spendere tutti i fondi europei, sono complessivamente nel setennato 2014-2020 qualcosa come 2 miliardi e 700 milioni. Tutto compreso sono fondi che vanno all'agricoltura, fondi che vanno a sostenere le imprese, fondi che vanno alla formazione. Sono importanti perché sono una leva di innovazione e di sviluppo. Sul fronte delle infrastrutture in Toscana sono stati usati 134 milioni tra fondi per la coesione e risorse regionali, per la tramvia nell'area fiorentina e 21 milioni per il People Mover a Pisa. Ora l'obiettivo è ridurre al minimo i danni dei tagli imposti anche dall'uscita di un contribuente importante come la Gran Bretagna. Ci sono dei tagli e sono inevitabili perché il secondo contribuente, la Gran Bretagna, ha deciso di andarsene e dunque sono emerse altre priorità, ma allo stesso tempo siamo contenti di aver minimizzato questi tagli. Tanti beneficiari dei fondi europei intervenuti nel corso dell'evento per fare proposte e soprattutto per chiedere al leader dell'Unione uno stop ai tagli sullo sviluppo comunitario. Grazie.